L'ultima è stata quella che siamo arrivati a Tunisi e io ho stato proprio il crollo, il crollo, la sacca, ci hanno presi tutti. Quindi lei ha anche la Lamei? Sì, è stata sulla Lamei, la madonna, guardi che la battaglia della Lamei pareva di essere nell'imperno, da tutte le parti si sparavano, dal mare, da sopra, dall'estilieria, una roba da non credere, sui carri armati che si ritiravano c'erano i fritti sulle barrele, le barrele sui carri armati, i fritti che li portavano indietro, una roba di notte era come di giorno, tutto un fuoco, una roba da non credere.